Altro che Salento e zona trullo sul lungomare di Bari, l'alga tossica ha invaso tutto il Mediterraneo. A confermarlo il direttore generale dell'ARPA Puglia, Giorgio Assennato. Dalle tossine della Ostreopsis non si può sfuggire, poiché affiorano in mare dopo le mareggiate e con le temperature elevate, esattamente come quelle che si stanno registrando in questi giorni. È un fenomeno purtroppo che con il riscaldamento climatico interessa tutto il Mediterraneo, soprattutto le coste rocciose. E soprattutto per la Puglia nella seconda quindicina, la seconda metà di agosto, quando le concentrazioni di queste microalghe salgono. Il dato positivo è legato al fatto che comunque nel peggiore degli scenari i sintomi sono relativamente banali, al massimo c'è febbre con raffreddore, tosse, mal di gola e regrediscono spontaneamente in pochissimo tempo. Dunque l'alga si sta diffondendo un po' in tutta la Puglia, dal Salento al Tarantino, ma a preoccupare maggiormente la zona delle acque antistanti, il camping San Giorgio. Noi abbiamo 16 siti di monitoraggio in regione, il sito del Trullo che illustra quindi la situazione sud di Bari, illustra dei valori alti della microalga, che si trova comunque anche in altre aree della Puglia, essenzialmente appunto in presenza di coste rocciose. Decine finora le persone che hanno dovuto fare i conti con i sintomi da contagio con l'alga tossica, febbre fino a 38 gradi, starnuti e prurito alla gola e la preoccupazione tra molti cittadini cresce. Il bagno se lo fa tranquillamente. Io l'ho fatto già stamattina perché era limpio dall'acqua, adesso ho visto che c'era un poco di mucillaggi. Preoccupata per l'alga tossica. Niente proprio. Tranquilla. Tranquillissima. Pane e pomodoro, la spiaggia più bella che può esistere. E' sempre in mare a Giovinazzo nel Barese e allarme per una decina di polpi trovati morti sui fondali. La scoperta è stata fatta da alcuni bagnanti nei giorni scorsi. Della questione si sta occupando la locale guardia costiera.